Allora raga, io penso che la live la rimanderò perché Fornet mi sta facendo l'aggiornamento e dice che sta durando un paio di ore, quindi non saprei quando farò la live o la rimandiamo domani o quando mi finisce l'aggiornamento oggi, se la facciamo oggi ma penso che, secondo me mi finisce verso le 18.30 se non mi sbaglio, verso le 19 perché il dato che io ora sto facendo un paio di cose, pure editando quindi durerà un pochino di più, penso verso le 19.30 verso le 8, chissà possiamo far la live fino alle 9, perché non mi funziona regà ora, cioè non mi funziona Fornet, se no non l'avrei fatta ora, alle 17.15 però non funziona, era una roba che volevo dirvi, quindi ragazzi non aspettatevi ora la live perché tanto la faccio dopo, se ci riesco sempre o domani, bella.